Da figli a genitori, come promuovere un attaccamento sicuro a cura della dottoressa Annalisa De Filippo, psicologa e psicoterapeuta? Prima di essere adulti e genitori, si è stati bambini e figli. La transizione alla genitorialità è una fase importante della vita, dove vengono riattivati i ricordi infantili e si crea un nuovo adattamento di coppia, che non è più solo una coppia coniugale, ma anche una coppia genitoriale. La sensibilità genitoriale risente sia del legame di attaccamento infantile, sia del legame di attaccamento di coppia. La storia di entrambi i genitori può quindi andare a influenzare il loro essere genitori, così come anche il loro essere coppia. Infatti, il genitore, nella relazione col proprio figlio, tende a ripetere lo stile di accudimento vissuto. Nella cura del figlio, tende a ripetere e a riattivare dei comportamenti relazionali interiorizzati e sperimentati. Prendere consapevolezza del tipo di accudimento ricevuto, riconoscendo che i propri genitori sono stati a loro volta influenzati dal loro essere stati figli, può favorire l'elaborazione della propria storia personale. Così come instaurare un legame di attaccamento sicuro con il proprio partner, può favorire dei cambiamenti positivi nella propria identità genitoriale, favorendo così l'instaurarsi di un legame di attaccamento sicuro con il proprio figlio. A volte può essere necessario un percorso di psicoterapia, che aiuti a elaborare la propria storia e a raggiungere questi obiettivi di attaccamenti sicuri. Concluderei con un proverbio che secondo me descrive la funzione genitoriale. Ai figli bisogna dare le radici e le ali per volare, ovvero una base sicura da cui partire per esplorare il mondo e a cui tornare sapendo di essere accolti, compresi e protetti. Vuoi saperne di più? Continua a seguire tutti gli aggiornamenti su Medici Italia.